Qualche giorno fa mi ha molto colpito il punto di vista di un cittadino napoletano in un servizio del Tg1. Diceva, siamo contro l'inceneritore ma poi bruciamo l'immondizia per strada. Dobbiamo fare pace con noi stessi. Un ragionamento che non fa una grinza. Mettiamo da parte un momento la politica, la destra e la sinistra e tentiamo di ispirarci al buonsenso. I rifiuti a Napoli da vent'anni sono diventati un'emergenza strutturale e da vent'anni si assiste in ermi ad un circolo vizioso. Le strade si riempiono di immondizia, l'amministrazione comunale non ce la fa, interviene lo Stato con la protezione civile e l'esercito che ripuliscono la città, ma nel giro di uno o due mesi la situazione torna da capo a dodici. Il problema non è tanto la raccolta, quanto dove mettere i rifiuti. Il sindaco de Magistris non vuole un nuovo inceneritore, anche se in metropoli come Parigi e Londra non mancano. Non vuole neppure una nuova discarica e magari lo si può anche capire. La sua soluzione? Raggiunge del 70% di raccolta differenziata per evitare le prime due soluzioni. Solo che la metropoli italiana, che ha il primato nella raccolta differenziata, è Torino, che ha una storia ben diversa da Napoli e comunque non supera il 42%. Per cui la politica del primo cittadino rischia di oltrepassare il confine delle illusioni. Ora, da qui a qualche giorno, speriamo il prima possibile, come chiede giustamente il Presidente napolitano, lo Stato con l'esercito o con un'altra istituzione tornerà a dare una mano. Ci sarà probabilmente anche l'aiuto delle altre regioni, ma per evitare il solito circolo vizioso, forse è necessario che il sindaco faccia un bagno di realismo e guardi le cose per quello che sono. Per governare c'è bisogno di un sano pragmatismo, più che della solita demagogia.